Ciao a tutti, siamo a Cavernierio e in questo video vi voglio far vedere la bellezza sempre delle nostre finestre Prolox Evolution, ma l'importanza di un'ottima progettazione realizzata dall'architetto che ha ristrutturato questo appartamento. Abbiamo installato otto finestre all'interno di questi locali, camera, soggiorno, bagno, cucina e disimpegno che hanno permesso di dare nuova vita a questo bellissimo appartamento. Un appartamento ristrutturato in una maniera fantastica, infatti complimenti all'architetto, di questo ci fa capire e fa capire l'importanza di lavorare insieme a dei veri professionisti. Infatti in questo disimpegno che vedremo cosa realizzeranno all'interno di questo spazio, potete notare la nostra bellissima finestra che in questo bianco liscio riesce a profondere ogni tipo di luce all'interno del locale, il nostro nodo centrale molto ridotto permette una visuale e un'ampiezza di vetrata maggiore rispetto ad ogni tipo di profilo di serramento in PVC disponibile sul mercato e in più c'è anche la comodità di avere la classica apertura patente, la seconda apertura dell'anta tramite catenaccio in modo tale che così ci blocca bene la battuta di risporto dell'anta ma soprattutto possiamo avere il classico vasistas e anche la microventilazione che ci permette di mantenere i locali permanentemente areanti senza disattivare totalmente la nostra finestra. Ora venite con me e vi faccio vedere un po' tutto il resto degli ambienti perché questo appartamento è veramente stato bellissimo riuscire a installare le nostre finestre perché è stato veramente realizzato e ristrutturato in una maniera fantastica, fenomenale. Ho un riscontro tra le vecchie pareti e le vecchie trami sabbiate bellissime dell'antica della struttura con il moderno e il raffinato di una pavimentazione fantastica e dei colori veramente che riescono a dare tanto contrasto ma creano veramente un appartamento contemporaneo moderno, infatti vedete che bello l'angolo doccia con la nostra sempre finestra Prolox Evolution che riesce a irradiare tutto l'ambiente bagno come in questo caso ma venite ancora di qua quindi vi faccio vedere anche la zona in secondo bagno che è veramente fantastico questo contrasto appunto tra il moderno e il raffinato degli arredi con la nostra finestra Prolox Evolution che appunto da una linea classica ma comunque molto moderna riesce ad aumentare ancora di più l'estetica di questo ambiente. Un altro ambiente molto carino, molto bello con questa piccola scaletta che porta alla nostra finestra sempre Prolox Evolution a due ante anche qua vi fa vedere quei dettagli che di solito magari non vengono calcolati ma lavorando insieme a un professionista, un architetto veramente professionale di qualità riesce a dare un nuovo impulso a un'abitazione magari un po' più datata che invece adesso è un qualcosa di fenomenale infatti vedete che bello sempre il tetto sabbiato e il contrasto con il classico e lo stonico di queste strutture bellissime che troviamo nella nostra bellissima aprianza con il moderno dei nostri seramenti Prolox Evolution e tutte le finiture di arredo. Adesso ultimiamo i lavori che stiamo finendo le finiture esterne e da Casa Tavernerio è tutto, ciao! Ciao!